Gioia gravina, sprofondo Bitonto. Si sintetizza così il match del vicino terminato 5 a 1 per i Murgiani, abili a rimontare l'iniziale svantaggio e poi a dilagare. Per i ragazzi di Mister Catalano la salvezza diretta non è mai stata così vicina quest'anno. Bitonto che resta invece aggrappato alla matematica. Il match tra Garvine e Bitonto si accende già al quinto con il vantaggio del team di Loseto grazie alla girata di testa di Figliolia, ma è solo un'illusione al sedicesimo i Murgiani. Infatti trovano il pareggio su punizione chirurgica di Chiaradia. Alla mezz'ora sempre Chiaradia da calcio piazzato, ci riprova, Civita ci arriva e mette in angolo. Prima dell'intervallo il Bitonto fa tremare i padroni di casa con il colpo di testa di Gianfreda che si stampa sulla traversa 1 a 1 dopo la prima frazione di gioco. Inizio ripresa shock per il Bitonto. Gomez la combina a grossa, poi commette fallo da ultimo uomo su Dejana, rosso diretto. Neroverdi in dieci e il cinquantunesimo quando dalla stessa punizione calcia da Silva, due respinte, la terza conclusione è quella buona. 2 a 1 Gravina e rimonta completata. Bitonto costretto a rincorrere ed in inferiorità numerica che prova a rispondere con obodo, conclusione al lato, ma al cinquantottesimo il Gravina segna ancora, questa volta con Stauciuk. 3 a 1, la rete che taglia le gambe definitivamente al Bitonto. Dejana si mette in proprio, ci prova a giro, Civita alza sulla traversa, ma al settantasettesimo il portiere ospite non può nulla contro Lauria, pescato in posizione regolare, gol del 4 a 1, in pieno recupero al novantaquattresimo. Santoro cala il pocherissimo, finisce così. 5 a 1 per il Gravina, la quarta vittoria di fila. I Murgiani nel prossimo turno potrebbero chiudere la pratica salvezza in trasferta contro la Gelbison. Bitonto, come detto, aggrappato alla matematica. Nel prossimo turno sfida il Rossiello contro la neopromossa Altamura.